eccoci qui a fare le uova sode colorate allora facciamo ovviamente le uova le uova sode classiche cioè dal momento del bollore mettiamo le uova in acqua fredda poi dal momento del bollore aspetteremo otto minuti poi mettiamo in acqua un po a tiepida un pochino di colore alimentare e andiamo a colorare l'acqua ecco trascorsi gli otto minuti togliamo le uova e le mettiamo subito a raffreddare in acqua fredda come le uova classiche intanto abbiamo colorato l'acqua abbiamo fatto un po di rosso celeste verde e giallo bucciate le uova le mettiamo direttamente nell'acqua colorata allora le uova sono sommerse e per far attaccare meglio il colore mettiamo una puntina di aceto adesso le facciamo marinare tre quattro ore e poi vediamo il risultato ecco vedete le asciughiamo un po di carta ed ecco qui le nostre uova sode colorate eccole aperte io vi saluto e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti state